Sapete che vi dico? Io spero soltanto che Dio sia femmina e che quando voi maschi arrivate nell'aldilà vi faccia a tutti quanti un culo così! Ogni matrimonio si fonda sul tradimento. Possibile che non sia mai caduta in tentazione? No. È una questione di forza e di volontà. Quella è etero, si sono stato? No, quella lì è lesbica. È etero? Lesbica! E se fosse bisexe? Ma che faccio, bronna? Sei scemo! Che? Non sai che vi assomigliate tantissime? Maschilista porco. Fricchettona frigida. Un uomo a 40 anni diventa interessante. Una donna quando arriva il primo cappello bianco inizia l'inferno. Magari ci sentiamo. Anch'io ti amo. Bellissimo. Io penso che il tuo pisello sia andato in pensione anticipata. Voi donne siete troppo superficiali. Possibile che ci avete in mente solo quello? Punto primo. Quando tradisci? È per una botta e via. Punto secondo. Mai avere una storia con una donna che tua moglie conosce. Cosa stavate parlando? Non succederà più. Cosa stavate parlando? Cosa stavate parlando? Cosa stavate parlando? Cosa stavate parlando?